È un film che ha molto a che fare con le maschere, con le maschere del quotidiano, sono tutte persone che loro malgrado, o invece proprio volontariamente, diventano dei personaggi, indossano delle maschere o di comodo, perché gli servono socialmente, o ci davano dentro loro malgrado, poi magari da combattono o la accettano. Quindi è un film che prevedeva un percorso interiore, quindi a me sembra veramente quasi un romanzo ottocentesco russo, cioè questo suo indagare all'interno, all'interiorità, ma ricordato delle cose ovviamente, delle questioni piantelliane, della scomposizione del nostro io, quindi tante questioni da attore in generale. No, è il racconto di una persona che pensa di essere scoperto, quindi pensa di essere un impostore e quindi anche qui, insomma, noi che lavoriamo di imposture, c'è di finzioni qui, e quindi è qualcosa che sicuramente mi riguarda, e poi soprattutto c'è il piacere di lavorare con Daniele, nel senso che poi quando mi chiama Daniele per i miei percorsi, cioè non è che mi interessa tanto il che cosa, raccontiamo, ma è il come, che è una strada di lavoro che è molto piacevole e, ma non c'è il senso becero, sottile, piacevole lavorativamente e qualsiasi cosa poi uno racconta, ecco, quindi non viene prima, anche perché all'inizio, insomma, la sceneggiatura era tante cose, è stata prima di trovare poi, di diventare quello che è diventata. Il mio abitato naturale fino a qui è stato abbastanza il teatro, ho interpretato l'unico film di finzione di Valentina Piedicini e questo ci intengo a ricordarlo, perché Valentina era una grande autrice che è venuta a mancare e che è la dove cadono le ombre, grazie. Per la dove cadono le ombre e per cui vinsi i miei talent a Venezia, quindi sì, e poi mi sono andata al teatro, per lo più, e è stato un bellissimo viaggio, nel senso che credo che la fortuna sia stata anche lavorare a questo film sul personaggio di Teresa, che da Starnone attraverso Daniele e Francesco è arrivato fino a me, di cui io mi sono rinnamorata, perché è un personaggio dell'intelligenza proteiforme, che sì, ha una grande propensione per la matematica, ma che passa attraverso bestiari, creature, ha un grande rapporto con lo sguardo, con provare a vedere ciò che c'è oltre l'increspatura dell'acqua, delle apparenze. mi piaceva il fatto che questo personaggio selvatico, un personaggio scomposto e che ha il suo rapporto con la verità antiborghese, per cui la verità è qualcosa che ti libera, è qualcosa che ti permette di respirare. Devo dire che è stata una fortuna lavorare con Daniele e lavorare con Elio, una grandissima fortuna, perché è vero anche che noi abbiamo fatto un grande affondo, anche grazie al lavoro di Elena, sui personaggi e questo ci ha permesso poi di arrivare sul set improvvisando anche, mangiando e rimasticando, e questo è molto teatrale, rimasticando e in un lavorio continuo. E quindi è stato come Giazzae tra la camera e fra noi. Secondo noi Nadia si autodefinisce in un modo che non lascia spazio alle interpretazioni, cioè io sono l'uovo di Pasqua senza sorpresa scaduto. Questo è il livello di autostima che questa donna ha nei suoi confronti. in realtà lei parte con una donna che ha una forte ambizione, soprattutto di ribalza sociale. Per lei tutto ciò che rappresenta il mondo di Tilde interpretato da Isabella, quel mondo in lei punta ad arrivare a fare questo salto sociale e entrare in contatto con quel tipo di persone. vuole che sua figlia frequenti delle scuole migliori rispetto al quartiere di periferia dove si dovevano vivere appena sposati. Però a un certo punto è come se lei capisse che questa cosa non la può costruire lei, perché semplicemente non si reputa brava, non si reputa brava abbastanza per riuscire a trovare la sua realizzazione professionale nella vita. E quindi decide di puntare totalmente sul marito e solo sul marito. E quindi decide, metto in qualche modo in... cioè ti sostengo, ti sto vicino, ma sarai tu che in questa vita sarai quello che farà cose interessanti. E in realtà però per questa... cioè è una cosa che lei decide in maniera consapevole, ma che poi porterà questo matrimonio a basarsi su un compromesso che non può funzionare fino in fondo. È stato un lavoro diverso, anche... sì, in un certo senso molto stimolante, ma per una che vuole tenere sempre tutto sotto controllo, come sono io, me ne ero abbastanza spiazzata. Con Daniele che la prima volta che l'ho sentito per questo ruolo al telefono mi ha detto io ti voglio in questo ruolo non per quello che hai fatto, ma per quello che non hai fatto. E da lì abbiamo cominciato su quegli spazi, su quella macchia vuota che c'è in questo racconto, anche sul lavoro che abbiamo fatto con Elena, sui personaggi, cercando delle strade... poi di fatto sempre diverse, per cui io non ero mai tranquilla, non sapevo mai che cosa avevo colto. Cioè, anche quando pensi di aver trovato tutto, ancora c'è da fare, c'è da trovare. Però sì, sicuramente Tilde in questo racconto è una donna forse un po' più risolta, onesta, schietta, una donna che vede in Pietrovella un uomo piccolo, forse è l'unica che riesce a smascherarlo, non lo so, credo di sì. Forse Pietrovella invece vede Tilde come una donna potente. Insomma, diciamo che ne esce bene in una situazione a un ricordo di una scena fatta insieme a Elio, che mi è piaciuto molto, che mi è piaciuto molto il percorso che abbiamo fatto per arrivarci. Ho lavorato pochi giorni, pochissimi giorni su questo set e mi è rimasta tantissimo la voglia di lavorare con Daniele, proprio per quel lavoro di improvvisazione, per quel modo di continuare a farti cercare strade diverse. Ma forse Tilde anche lei non ha maschera, cioè nel senso penso che nasconda bene la sua solitudine, la solitudine di quelle donne che comunque hanno un lavoro, che vanno a cena con i colleghi, che si ritrovano in questi alberghi quattro stelle inutili e che però sono sole e va così. Storie che mi riguardano e che ogni volta che leggo dico ma come passa bene questa cosa. E ovviamente lui indaga talmente bene sul materiale umano che poi alla fine anche quando costruisce dei personaggi di fantasia hanno sempre qualcosa a che fare con noi, non mi ci metto dentro solo io ma... e quando facevamo insieme la scuola, che poi non era solamente un film ma anche uno spettacolo teatrale, ci ritrovavo dentro tutte le scuole che avevo preparato, tutti i professori che avevo conosciuto, e quando ho letto là ci in qualche maniera raccontava una specie di ipotesi identificante su quello che sarebbe potuto essere la mia vita se... e qui dentro con Firenze c'è un modello maschile in cui ci si può ritrovare fortemente la parte intossica e intossicata da noi stessi, dall'arcisismo, dal senso di essere impostori e poi c'è da dire anche un'altra cosa che spesso i film, i libri di Domenico hanno sempre degli ottimi spunti, ingranaggi che stanno bene attaccati ai film. Qui c'è l'elemento del segreto e del mistero che effettivamente ha scritto moltissimo. Grazie.